C'è un governo effettivamente molto di sinistra con questa cifra o si dice per dire? Ma io più che le definizioni vorrei provare a cercare di inquadrare cos'è successo. Allora, per la prima volta dall'estero, ma i poteri veri che governano il mondo hanno sempre influenzato l'Italia e i suoi governi, però questa volta abbiamo avuto il Presidente degli Stati Uniti che dice va bene questo governo. Giuseppe. Poi abbiamo avuto con un tweet, adesso si usa il tweet, poi abbiamo avuto Bill Gates, uno degli uomini più importanti e ricchi del mondo, che conta forse più del Presidente americano, poi abbiamo avuto Moscovici, poi abbiamo avuto Juncker. Juncker ha avuto anche la sfacciataggine di dire usiamolo come abbiamo usato Tsipras, cioè facciamogli fare le cose che vogliamo noi. Lo ha detto, ormai possono anche dire una verità che magari una volta si teneva nascosta. Poi abbiamo visto addirittura la signora Lagarde, tre, quattro ore prima che si formi il governo, dice a fare il Ministro dell'Economia va bene quel signore lì. C'è un'influenza così prepotente, così estesa di questi poteri. Come si fa a definire di sinistra un governo del genere? Peraltro in questo governo, una volta si diceva, no, si passano le battute, il più pulito è Salarogna. Qual più pulito ha sciolto il Partito Comunista? Gli altri hanno votato il Job Act, che è la distruzione dei diritti sul lavoro. hanno cancellato l'articolo 18, hanno fatto la legge Fornero, ma come facciamo? E' rosso di vergogna questo governo. Mi arrabbio, scusate la passione per me è politica. No, 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 assolutamente. Mi arrabbio!